ecco fare l'unboxing dell'eva 04 non è facile perché ho già fatto quello dell'eva 03 e sostanzialmente è lo stesso modello infatti nonostante questo sia il modello 009 l'evangelion 04 è semplicemente un repaint vero e proprio del dello 03 sono tutti i punti di vista anche la testa sembra diversa ma in realtà è uguale ci sono però altre piccole differenze che andremo a vedere ma la cosa anche importante da dire è che l'eva 04 se voi non ve lo ricordate è per il semplice motivo che non esiste infatti in nella serie televisiva classica per così dire se ne parla si parla di questo modello pronto diciamo ad entrare in azione che per un malfunzionamento al reattore esplode portandosi via praticamente il geofront dove era in costruzione e lasciando un bel buco che viene riempito dall'oceano nel videogioco e anche mi sembra in alcune novel da quello che ho capito leggendo appunto su wikipedia esiste anche una versione alternativa della storia in cui kaoru sopravvive appunto viene convinto da shinji a non auto uccidersi una cosa boh particolare quella anche quella era una svolta psicologica di evangelion e diventa il pilota dello 04 perché in realtà questo modellino non ha pilota non ha un pilota designato infatti le minifigure sono una rei bambina e un'azooka bambina con lo scimmiotto che sì sono carine saranno le mie cavie da colorazione per provare appunto i colori rivedere se rende meglio col primer nero col primer bianco probabilmente quasi certamente con quello bianco però non sono appunto incisive la cosa che invece mi piace davvero un sacco è il fatto che il modello non è grigio è completamente metallizzato una cosa davvero fichissima per un hg ciò renderà anche molto difficile tagliare le plastiche perché questo tipo appunto di chiamola placcatura in realtà all'interno è nero quindi tagliandolo male o comunque lasciando delle sbavature si intravede il nero andrò a ricoprire certe certi errori di taglio con il marker argentato però anche bello il fatto che gli adesivi siano soprattutto quelli rossi metallizzati per le spalle appunto andranno usati gli adesivi bianchi per dare la tonalità purtroppo come altri sono un modello praticamente un blocco unico però mi fa anche molto piacere il fatto che abbia un coltello dalla forma diversa e un fucile da cecchino diverso da quello che era in dotazione allo 00 i piedi e le giunture del collo sono in un color rosso vinaccia che anche quello mi piace le mani sono grigie in plastica morbida qua vediamo la testa appunto tutta metallizzata anche qua spalle appunto e torace le decala d'acqua che penso utilizzerò tra l'altro nello 03 come cosa particolare c'è il bordo per le spalle con scritto eva 3 però ci sono anche due adesivi con un 3 e un 4 perché volendo si poteva per così dire montare l'eva 03 con il simbolo del 4 infatti questo va dietro la nuca per segnalare che leva 04 come i contrassegni per le braccia il fucile poi è quello standard così come appunto l'entry plug e vediamo da questo lato e il cordone ci sono naturalmente i pezzi standard degli evangelion gli LMHG in realtà avendone ormai quasi tutti mi rendo davvero conto che sono al 90% lo stesso modello può sembrare una cosa banale da dire ma in realtà le piccole differenze sono davvero piccole e non influiscono su gran parte dello sprue infatti anche qua le braccia sono praticamente le stesse del dello 03 il manuale di istruzioni presenta un disegno che non mi piace tantissimo a dire il vero qua viene presentato un po' di schede tecniche del modello e appunto la scenetta in cui viene detto che la nerve 02 non c'è più ragazzi qua c'è un grosso cratere e mi spiace il vostro bel robottone argentato che qua nel disegno fa molto figo non c'è più manco lista dei pezzi la costruzione praticamente delle gambe ormai si può fare ad occhi chiusi una cosa un po' ingannevole che ho trovato è che sia la confezione che anche le immagini presentano leva per così dire che si ribella all'interno della gabbia anche qua però non c'è ovvero io ho preso anche l'lm hg dello 01 con appunto il trasporto che era molto più figo di quello normale apposta per fare anche la scenetta di per così dire sporlo come se fosse in uscita avrebbero potuto riciclare gli stessi pezzi con qualche appunto paratie in più per fare queste scenette qua perché poi dietro qua è lo stesso ma manca questa parte diciamo frontale quella dove di solito quando c'è lo 01 sono lì a parlare tutti quanti con il testone dietro visto che comunque questo modello costa lievemente di più degli altri apposta perché è tutto metallizzato avrebbero potuto metterci anche quello invece ci hanno messo sto fucile da cecchino che non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere quello che utilizza Shinji per abbattere l'angelo romboidale e quindi comunque si è diverso dallo 03 più che altro per l'arma infatti non c'è l'arma dello 03 almeno non hanno proprio cambiato solo la colorazione ci sono i personaggini diversi francamente la scimmietta mi spiace verrà usata come cavia probabilmente e queste parti metallizzate saranno un po' un delirio da tagliare ma a mio avviso possono rendere davvero bene quindi non vedo l'ora di metterci le mani di dedicarmi anche a rifinirlo perché molti dettagli non hanno gli adesivi qua sul petto c'è gli agli adesivi però nella testa e nelle cavità delle spalle questo rosso andrò a far la mano così come il nero sulle costole adesso le chiamerò così perché sennò questa parte non viene non so se la vedete bene nella foto non viene così dettagliata non viene così suddivisa perché non c'è il nero in realtà quindi mi dedicherò anche a questo ormai fare i dettagli extra sta diventando una cosa che allunga il brodo per così dire però mi dà anche una certa soddisfazione perché so di aver personalizzato il mio modello so di aver appunto reso almeno per me migliore il modellino che costruito a secco e carino però come lo faccio io è come lo faccio io quindi fare anche questi dettagli in più sarà una sfida per rendere questo modello particolare questo Evangelion che virtualmente non esiste se non si è mai visto qualcosa di unico fatto da me non andrò di certo a fare cose complicate però è un piccolo piacere che mi riservo quindi se volete qualcosa di diverso secondo me questo EVA 04 non è affatto male soprattutto per la qualità del plastiche metallizzate il fatto che abbia la stessa componentistica e quindi mobilità comunque snodi di tutti gli altri LMHG compreso appunto la giuntura sul braccio con la gomma e è comunque bello sì è un repaint secco dello 03 non ha neanche la testa diversa però è bello mi piace un sacco ed è anche appunto quel modello misterioso che posso vantare in collezione da mettere lì che se qualcuno lo vede cos'è quello? è l'EVA 04 come fai a non conoscerlo? eh, non si vede mai quindi a livello collezionistico trovo che sia un gran bel modello e sono davvero contento di averlo in collezione per adesso la mia scimmia di Eva è quasi saziata e quindi direi che per adesso è tutto ci sentiamo alla prossima mi raccomando seguite il blog dell'Impero delle Tenebre e anche il canale appunto per vedere ulteriori unboxing e recensioni e vi auguro quindi una buona serata grazie a tutti